Un gol molto importante perché vale l'accesso alla finale. Era una finale che volevamo tanto perché nell'ultimo periodo non ci sta andando tutto bene nel campionato. Anche un po' di sfortuna e quindi volevamo fare vedere che noi siamo qua e possiamo andare a vincere la Coppa Italia. Inter ha giocato una buona partita. La Roma ha meritato la vittoria. Per te che partita è stata? Sì, l'Inter lo sapevamo già che era una partita dura. Nel primo tempo avevamo tante occasioni. Purtroppo non siamo riusciti a segnare. Però avevamo quella percezione dal campo che il gol arrivava. Alla fine sono stato io a farlo. Poteva essere un altro compagno mio. Però siamo felici che siamo nella finale. Dal punto di vista difensivo loro giocavano molto con queste palle lunghe per Esposito. Che la toccava di testa o per Iljev o per Ovusu. Sapevate che l'Inter avrebbe cercato questo tipo di palla lunga? Sì, anche perché è stata una partita simile anche nel campionato che avevamo giocato a Milano due settimane fa. Avevamo visto tanti video di loro, quindi sapevamo che giocavano così. Quindi eravamo bene preparati, diciamo, su questo punto di vista. Ora il campionato. Poi però c'è una finale all'orizzonte. Il primo trofeo che puoi giocarti con la maglia della Roma. Insomma, sarà una grande emozione. Sarà soprattutto una grande partita, a prescindere dall'avversario. Sì, sì, certo. L'aspettiamo tanto questa finale perché abbiamo sudato tanto per arrivare là. Abbiamo giocato contro grandi squadre e quindi vogliamo andare a prendere la Coppa con tutto.